CDS Onlus è una cooperativa sociale a scopo mutualistico che si pone l'obiettivo di perseguire l'interesse generale della comunità, incentivando l'integrazione sociale di tutti i cittadini. La società specializzata in ristorazione costituisce un punto di riferimento per tutta la Regione Puglia, grazie alla collaborazione di uno staff d'eccellenza e alla selezione di materie prime di qualità. I servizi offerti spaziano dal catering per eventi personalizzati alla ristorazione collettiva per menze scolastiche, aziendali e strutture sanitarie. Con l'impegno e passione si offrono soluzioni culinarie genuine e gustose strutturate su misura, in base alle specifiche esigenze di ogni cliente. CDS Onlus, ristorazione collettiva, specialisti del gusto.